Nonostante gli impegni e nonostante le parole, ancora i nostri concittadini delle zone terremotate sono in attesa di avere un tetto sopra la testa. Abbiamo aspettato di conoscere quelli che sono gli interventi da parte del Governo e vediamo solo burocrazia, aggiungersi a burocrazia. Abbiamo denunciato in tutte le sedie e continuiamo a farlo, anche nel momento in cui il Governo ha voluto accelerare sulla riforma della protezione civile. Quello che occorre è togliere burocrazia, quello che occorre è rendere veloci ed efficienti gli interventi di protezione civile. La gente ha bisogno di risposte serie, di risposte veloci e risposte concrete. La burocrazia non c'entra nulla. Purtroppo oggi manca la responsabilità. Abbiamo un commissario, hanno nominato un commissario alla ricostruzione, esiste un Dipartimento della protezione civile, esistono dei subcommissari alla ricostruzione. Tutte figure che si sovrappongono ai sindaci e che sono inefficienti e inefficaci in dare risposte che invece un primo cittadino, chi amministra una comunità, è in grado di dare. Questo è quello che abbiamo chiesto e su cui insistiamo. Che nelle zone terremotate i primi cittadini siano considerati e ai cittadini vengano date risposte non di burocrazia ma di efficacia. Basta prendere impegni e non mantenerli.